Si chiamava Bruna Fonseca, era una donna di 28 anni di età non italiana, specifico non italiana, ma brasiliana, la quale sarebbe stata, o meglio sarebbe stata, chiara, strangolata a morte, pensate, notti di Capodanno del 31 dicembre, notti di San Silvestro, il corpo primo di vita, è stato scoperto il 1 di gennaio del 2023 in un appartamento in Liberty Street, a Cork City, in Irlanda. Una vicenda che sciocca e turba, l'Irlanda intera, la donna si era trasfida per lavoro, di recente ha trovato un lavoro proprio in un'impresa di pulizie, un contratto regolare finalmente per lei, la donna, prima di essere stata fatta fuori, è andata ad un pub per bere un drink, come fanno tanti giovani di oggi, la polizia sta cercando di capire e comprendere quello che è successo anche grazie all'ausilio delle videocamere installate in loco. Intanto ci sarebbe già un arrestato, un 29enne, l'accusa pesante è quella proprio di ovicidio. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, utenti di Youtube, il video termina qua. Bruna, riposta in fatti. Grazie a tutti.